In questa lezione, nell'ambito dei teoremi sulle funzioni derivabili, ci occuperemo del teorema di Cauchy. Ho riportato insinteticamente le ipotesi e la tesi del teorema che adesso andiamo a spiegare. Abbiamo due funzioni f di x e g di x, entrambe continue in un intervallo chiuso a b. Le stesse funzioni sono derivabili nei punti interni all'intervallo. La derivata della funzione g, che esiste per ipotesi, è diversa da zero nei punti interni all'intervallo a b. Sotto queste ipotesi, la tesi è la seguente, lo scritto sia in forma simbolica che in forma verbale. Esiste un punto c interno all'intervallo a b, tale che vale questa uguaglianza f di b meno f di a fratto g di b meno g di a è uguale al rapporto f' di c fratto g' di c. Prima di procedere con la dimostrazione di questo teorema, vediamo brevemente qual è il significato di questa tesi. Al primo membro abbiamo il rapporto fra due incrementi, l'incremento della funzione f, l'incremento che si ha quando la funzione f viene calcolata prima nel punto a e poi nel punto b, e al denominatore abbiamo il corrispondente incremento della funzione g, quindi g di b meno g di a. La tesi del teorema mi dice che il rapporto fra questi due incrementi può essere ottenuto con il rapporto tra le derivate delle due funzioni, cioè f e g, calcolate in uno specifico punto c interno all'intervallo a b di cui il teorema mi garantisce l'esistenza. Da notare che nella versione verbale io ho scritto esiste almeno un punto c, è una caratteristica di questa serie di teoremi sulle funzioni derivabili. Il teorema garantisce l'esistenza di un punto, ma ovviamente non è vietato che ce ne sia più di uno. E così come se venisse a mancare qualcuna delle ipotesi, il teorema non vieta che la tesi sia vera lo stesso, semplicemente non ne dà alcuna garanzia. Adesso procediamo con la dimostrazione. Per la dimostrazione del teorema tiriamo in ballo una funzione ausiliaria che chiamiamo f grande di x definita in questo modo come f minuscolo di x meno k per g di x dove k è un numero reale scelto arbitrariamente. Noi sceglieremo il valore di k in modo tale che la funzione f grande soddisfi le ipotesi del teorema di Rolle. Questo teorema richiede tre ipotesi. Uno, che la funzione f sia continua, parliamo della funzione f grande, nell'intervallo AB chiuso, che sia derivabile nei punti interni e che inoltre assuma valori identici all'estremità dell'intervallo AB. Per fare in modo che queste ipotesi siano verificate esaminiamo quali sono le proprietà della funzione f. Tanto per cominciare la particolare definizione che abbiamo dato garantisce la continuità e la derivabilità richieste, perché per ipotesi, ipotesi del teorema di Cauchy, le funzioni f e g sono continue nell'intervallo chiuso AB e derivabili nell'intervallo aperto e quindi una combinazione lineare come questa per i teoremi sulle funzioni continue e derivabili risulta essere una funzione continua nell'intervallo chiuso e derivabile nell'intervallo aperto. Dobbiamo invece a questo punto garantire la terza ipotesi del teorema di Rolle. Per farlo dobbiamo invece scegliere in modo opportuno il valore di K perché le prime due sono verificate per qualsiasi valore di K. Per fare questo semplicemente imponiamo che f di A ed f di B siano uguali e troviamo il corrispondente valore di K che viene fuori da questa uguaglianza. Precisamente dobbiamo scrivere che f di A meno K g di A sia uguale a f di B meno K g di B. Questa è un'equazione in cui K fa da incognita. La risolviamo quindi rispetto a K. È un'equazione di primo grado. Isoliamo i termini di primo grado al primo membro e i termini noti al secondo membro. Così abbiamo K per g di B, ho portato questo termine a sinistra cambiando lo disegno, meno K g di A uguale f di B meno f di A. Ho portato questo termine al secondo membro cambiando lo disegno, quindi f di A è andato a destra e K g di B è andato a sinistra. Adesso raccogliamo al fattor comune K al primo membro e abbiamo K per la differenza g di B meno g di A uguale f di B meno f di A. Da notare che sono comparsi rispettivamente l'incremento della funzione g a sinistra e l'incremento della funzione f a destra e a questo punto nel calcolare K comparirà il loro rapporto, quello che è contenuto nella tesi del teorema di Cauchy. K risulta uguale al rapporto f di B meno f di A fratto g di B meno g di A. Ecco il valore di K che garantisce l'applicabilità del teorema di Rolle alla funzione f maiuscolo. Adesso andiamo a sostituire questo valore di K nella definizione di f che abbiamo in precedenza dato. Lo andiamo a sostituire qui e otteniamo una funzione alla quale è applicabile il teorema di Rolle. Lo facciamo nell'altra pagina. La funzione f di x assume quindi la forma f minuscolo di x meno il rapporto tra gli incrementi f di B meno f di A fratto g di B meno g di A moltiplicato la funzione g di x. Visto che questa funzione è applicabile il teorema di Rolle possiamo direttamente utilizzare la tesi. La tesi del teorema di Rolle è che esiste un punto c appartenente all'intervallo aperto a B tale che la derivata prima della funzione f in tale punto si annulla ed è questa condizione a fornirci la chiave per dimostrare il teorema di Cauchy. Infatti se adesso andiamo a calcolare la derivata della funzione f grande generica, cioè f' di x, applicando le regole di derivazione per una combinazione lineare come questa, al secondo membro abbiamo f minuscolo primo di x meno la costante rimane invariata e quindi la ricopiamo semplicemente f di B meno f di A fratto g di B meno g di A per la derivata prima della funzione g. Adesso andiamo a sostituire il valore di c al posto di x. Dobbiamo farlo qui, qui e qui e otteniamo la seguente uguaglianza. In corrispondenza del valore di c la derivata si annulla e quindi abbiamo 0 uguale f' di c uguale f' minuscolo di c meno il rapporto tra gli incrementi, non lo nomino più, mi limito a riscriverlo, per g' di c. Quindi questo secondo membro si annulla. Il suo annullamento fornisce praticamente la tesi del teorema con un paio di passaggi. Infatti abbiamo f' di c meno il rapporto tra gli incrementi per g' di c uguale a 0. Se adesso portiamo f' di c a destra cambiandolo di segno e cambiamo tutto di segno, otteniamo. Rapporto tra gli incrementi. per g' di c uguale a f' di c. A questo punto ricordiamoci l'ipotesi che la funzione g ha la derivata che non si annulla, quindi siamo sicuri, grazie alle ipotesi del teorema che stiamo cercando di dimostrare che g' di c sia diverso da 0 e quindi possiamo portarlo a dividere qua sotto e otteniamo di fatto la tesi, cioè f di b meno f di a fratto g di b meno g di a uguale al rapporto tra le derivate calcolate nel punto c. F' di c fratto g' di c. E questo risultato è la tesi del teorema, come possiamo osservare ritornando alla prima pagina. Rapporto tra gli incrementi uguale al rapporto tra le derivate. Il punto c che stavamo cercando come tesi del teorema di Cauchy è nato dall'applicazione della tesi del teorema di Rolle. Come esempio di applicazione del teorema di Cauchy prendiamo in esame le seguenti due funzioni f di x uguale 2x al quadrato meno 3x meno 1 e g di x uguale 3x al quadrato. Si tratta di due funzioni razionali intere di secondo grado. Ne esaminiamo il comportamento nell'intervallo 2-3 provando a vedere se ci sono le ipotesi per applicare il teorema di Cauchy. Ricordiamo brevemente l'enunciato del teorema. Dobbiamo avere che le due funzioni siano continue nell'intervallo a b chiuso, derivabili nell'intervallo aperto. La derivata prima della funzione g non deve annullarsi in questo intervallo. Allora la tesi del teorema ci assicura l'esistenza di un punto c interno all'intervallo in cui vale l'uguaglianza incremento della funzione f fratto incremento della funzione g uguale derivata della f fratto derivata della g entrambe calcolate in questo punto c, la cui esistenza è garantita dal teorema. Allora a questo punto discutiamo intanto le ipotesi del teorema applicate al nostro esempio. Essendo due funzioni razionali intere sappiamo per certo che si tratta di funzioni continue e derivabili in tutto r. di conseguenza in particolare sono continue e derivabili nell'intervallo 2 e 3, quindi le ipotesi del teorema di Cauchy sono verificate a parte 1 che dobbiamo verificare adesso, cioè dobbiamo verificare se la derivata della seconda funzione si annulla oppure no nell'intervallo indicato. La derivata della g si ottiene con la regola di derivazione di un monomio come 3 per 2 per x elevato a 1 applicando la regola di derivazione di una potenza e quindi abbiamo 6x. Nell'intervallo 2 e 3 questo monomio 6x non si annulla perché per annullarsi dobbiamo prendere x uguale a 0 che non è compreso in questo intervallo. Quindi anche la terza ipotesi del teorema di Cauchy è verificata. Il teorema allora mi dice che esiste un punto c interno all'intervallo 2 e 3 tale che risulti l'uguaglianza incremento della f, cioè f di 3 meno f di 2 fratto incremento della g, g di 3 meno g di 2, uguale al rapporto delle derivate, cioè f' di c fratto g' di c. E allora il teorema ci dice che questo punto esiste. Noi a titolo di esempio andiamo a verificare effettivamente se questo punto esiste cercandolo. Per cercarlo dobbiamo sostituire al posto delle espressioni generiche f e g di 3 e di 2 i loro valori ottenuti sostituendo 3 e 2 rispettivamente alla funzione f e alla funzione g e poi calcolando le espressioni delle derivate. Allora f di 2 è uguale, guardando l'espressione della funzione, 2x al quadrato meno 3 per 2 meno 1 e quindi 8 meno 6 meno 1 e quindi 2 meno 1, 1. Allo stesso modo f di 3 è uguale, utilizzando lo stesso polinomio abbiamo 2 per 3 al quadrato meno 3 per 3 meno 1, quindi abbiamo 3 al quadrato fa 9, 18 meno 9 meno 1, 18 meno 9 fa 9 meno 1, 8. Poi per quanto riguarda la funzione g, g di 2 è uguale, torniamo indietro, g di x è 3x al quadrato, quindi abbiamo 3 per 2 al quadrato e quindi 3 per 4 è 12. Analogamente g di 3 è uguale a 3 per 3 al quadrato, quindi 9 per 3 è 27, questi sono i valori che ci interessano per calcolare l'incremento della funzione f e l'incremento della funzione g. Quindi abbiamo che f di 3 meno f di 2 fratto g di 3 meno g di 2 è uguale a, f di 3 meno f di 2 è 8 meno 1 e g di 3 meno g di 2 è 27 meno 12. Al numeratore abbiamo 7, al denominatore abbiamo 17 meno 2, 15, quindi 7 e 15 il rapporto tra i due incrementi. Ora calcoliamo le derivate della f e della g per quanto riguarda la f, f' di x è uguale, controlliamo di nuovo il polinomio, 2x al quadrato meno x meno 1, facciamo qui il calcolo della derivata, f' di x è uguale, 2 va a fattore, abbiamo 4x, qui la derivata fa meno 3 e la derivata di meno 1 fa 0, per quanto riguarda la derivata della g è 6x, l'abbiamo calcolata poco fa, quindi abbiamo 4x meno 3 è 6x. Ora, la tesi del teorema di Cauchy mi dice che esiste un punto c che è sostituito alle due derivate, ovviamente punto c che deve essere interno all'intervallo 2 e 3, quindi un valore di c compreso tra 2, maggiore di 2 e minore di 3, che sostituito al posto di x in queste due derivate, fa in modo che il rapporto tra queste due derivate sia uguale esattamente a 7 quindicesimi. Ora risolviamo questa uguaglianza tra 7 quindicesimi e 4c meno 3 fratto 6c come equazione nell'incognita c per trovare il valore di c. Intanto i denominatori 15 e 6 sono entrambi divisibili per 3, quindi possiamo semplificare, abbiamo 7 quinti uguale a 4c meno 3 fratto 2c. A questo punto portiamo a forma intera moltiplicando per rispettivi denominatori abbiamo 2 per 7, 14c uguale a 20c meno 15, eseguendo il prodotto di 5 per 4c è meno 3. Portiamo 20c al primo membro e abbiamo 14c meno 20c uguale meno 15 e quindi la differenza è meno 6c uguale meno 15, cambiando disegno c è uguale a 15 sesti, ovvero dividendo per 3 5 mezzi. Da notare che 5 mezzi è sia maggiore di 2, perché 5 mezzi è 2,5, che è minore di 3, esattamente come previsto dalla tesi del teorema di Cauchy. Quindi nell'esempio che abbiamo visto abbiamo l'applicabilità del teorema, l'esistenza del punto C che abbiamo verificato con la sua ricerca diretta.